Il contributo, d'altro canto la poesia ha sempre avuto questa funzione, la poesia sin dalle origini dei tempi, i miti, i miti si raccontavano anche attraverso le poesie, quindi dare il mio piccolo contributo per un discorso, un filo narrativo che riguarda tutti quanti noi di qualunque epoca fino ad oggi e che consiste proprio nel fatto di avere dentro di noi la scintilla per poter risalire rispetto ad una caduta, questo ci devo dire. Grazie, buonasera a tutte ormai, continuiamo così, grazie due volte, grazie a Roberto per il libro, per questa raccolta che mi ha fatto leggere e grazie a Susi perché è una coincidenza che io sia qui oggi a presentare questo libro, per caso ci siamo incontrate e sono felice di avere per mano delle poesie perché ultimamente non è facile ritrovarsi per le mani di una raccolta di poesie, ritrovarsene una bella come questa. Subito, leggendo, mi ricollego proprio a quello che Roberto ha appena finito di raccontare, Eugenio Montale, un bel po' di anni fa, nel 1975, in occasione proprio del suo discorso alla consegna del Nobel, si chiedeva come in tale paesaggio di esibizionismo isterico, pensate nel 1975 e oggi elevati a potenza questo esibizionismo isterico, quale potesse essere il posto della più discreta delle arti? La poesia, ecco, esibizionismo isterico nel 1975, quando l'arte stessa cominciava a farsi spettacolo, ma adesso ci siamo un pochettino persi in un vuoto senza fine. Esatto, non ho fatto fare sanno. Esatto, ecco, e in questo vortice di tempo, che è proprio in quest'ultimo decennio, credo che abbia preso una velocità spaventosa. La parola poetica, per chi la ama, io ho sempre la paura che possa perdere la posizione che aveva un tempo, come giustamente tu hai detto. E allora mi chiedo, forse è difficile vederla come un tempo, però grande è la sfida che invece io pongo alla poesia sempre, soprattutto quando me la ritrovo proprio per le mani. E allora così oggi come ieri, il bisogno del poeta, di colui che si prende questo impegno, questa grande responsabilità, rimane imputato. Poeta come ieri e quindi poeta oggi come ieri. E allora in questo accelerarsi continuo del tempo, la poesia non può morire, perché all'umanità veramente verrebbe a mancare la base, verrebbe proprio a mancare il pensiero, il pensiero di, un pensiero importante, che poi alla fine è il pensiero di ognuno. E mi sono venute in mente anche le parole che Giovanni Rapponi scrisse poco prima di morire in un articolo nel Corriere della Sera, dove lui parla e afferma della possibilità infinitamente sospesa della poesia, la quale ovviamente è nella mente del poeta, ma è nella mente di ognuno di noi. E questo è il valore forte della poesia, è l'impegno importante, la responsabilità di quel linguaggio poetico di cui vi parlavo prima, la poesia che a volte sembra una forma letteraria difficile, in realtà io l'ho sempre vista come la forma letteraria più popolare, nel senso più bello, ovviamente, del termine. A proposito, tornando invece alle coincidenze significative, ce lo siamo proprio detti poco fa, non potevano pensare a Jung, che parlando di sincronicità, lui trasforma questi eventi sincronici, li chiama proprio coincidenze significative. Ma la cosa bella che Jung tira fuori, ovviamente, per quello che a lui contete, è il fatto che ognuno di noi, tra l'altro lui lo fa citando addirittura il poese delle meraviglie, dice che è stupido pensare che la vostra memoria finisca nei ricordi, quelli proprio brevi, in quello che ci succede durante la vita. In realtà, la nostra memoria è un bagaglio talmente grande, importante, che conserva in sé degli archetipi che poi sono quelli che trasformano le coincidenze, non in banalità, ma in coincidenze significative. E allora, far diventare le coincidenze significative una filosofia di vita è straordinario, perché alla fine queste coincidenze non diventano più banali, cose che capitano, diventano delle domande, diventano delle risposte, diventano un cerchio e un trovi che rende sicuramente diverso il significato della nostra vita. Io mi fermo, se non vado a ruota, noi dobbiamo leggere le poissie, quindi leggiamo... Aspetta, volevo raggiungere una cosa. Jung, infatti, sosteneva che quelle che noi chiamiamo casualità, appunto, non sono affatto delle casualità. Cioè il fatto che noi oggi siamo qui, insieme, in questa stanza, non è una casualità. Il fatto che noi viviamo determinate esperienze nella nostra vita, quando noi talvolta diciamo ma tutte a me capitano, sì, perché sei tu che fai in modo che capitino tutte a te. Non è il fatto, il fatto non esiste in queste cose, il fatto non esiste, non esiste sicuramente in queste cose. Quindi rendersi conto che tutto ciò che noi viviamo e che facciamo è preparatorio di qualcosa che verrà dopo e siamo noi a prepararlo quel dopo, siamo noi col nostro agire o col nostro non agire. In questo senso, quindi, non si può parlare di casualità, ma di coincidenza che appunto diventa significativa e quindi è una sincronicità, non è più, in realtà non è neanche una coincidenza, no? Non è neanche una coincidenza. Loro due che si incontrano per la strada e lei che le propone di presentare questo libro, di leggere le poesie, è un'energia che in qualche modo si è messa in moto. Possiamo anche pensare, ah vabbè, ma è assurdo. No, non è assurdo, perché è così, è davvero così. E quindi anche questo fatto, quello che dicevi prima, della poesia che è vista come qualcosa oggi, forse più che mai rispetto al passato, come qualcosa di avulso, di lontano dalla modernità, dalla modernità veloce, frenetica, anglofona, quindi spesso con parole molto mozzate, tagliate, come smart, fast, e noi pensiamo per esempio, nel nostro immaginario ci viene la poesia, quella di, la poesia intesa come poeta, di Leopardi o di un altro autore del passato e certe volte anche a me come insegnante viene difficile riuscire, non è facile riuscire a far innamorare della parola di Leopardi o della parola di Dante un alunno che la mattina prima di entrare in classe ha già spento, o forse anche no, lo smartphone, il tablet, e che naviga a byte, per rimanere in tema, molto superiori ai miei. Quindi come fai? Lo fai nella maniera più semplice, Dandoti e dando loro la possibilità di comprendere che la poesia non è qualcosa che sta nell'olimpo della letteratura e che è soltanto per coloro che sanno ben scrivere, che conoscono un lessico particolare, per gente che ha anche forse un aura un po' si sente superiore, no, non è nulla di tutto ciò. La poesia è qualcosa che riguarda tutti quanti noi. Mi hai fatto pensare poco fa al funerale di Pasolini, quando è stato detto che quando muore un poeta una società si impoverisce. Fateci caso, ma quando una società si trova ad un ambivio fondamentale della sua esistenza, vengono in mente determinati canti, determinate poesie, determinati poeti, che diventano, come dire, un modello a cui tutti si rifanno. Quindi la parola poetica ovviamente oggi ha bisogno anche di essere molto più diretta, molto più immediata. Ci sono tanti poeti assolutamente affermati, contemporanei, penso per esempio a Guido Catalano, che ha scritto, per esempio, una poesia di cui ho parlato ai ragazzi in classe, Ogni volta che mi baci muore un nazista. E allora, se noi analizziamo questa frase, questa frase è potente, vera, efficace, diretta e poetica insieme. Ogni volta che mi baci muore un nazista. È la verità. Perché se il nazismo e il fascismo sono ideologie che portano ad una cultura di morte, così come la mafia, il bacio, dato per amore, è l'esatto opposto. Quindi è poesia allo stato puro, è pure efficacissima, gli arriva, gli arriva subito. Quindi si può fare poesia, anche oggi. Visto che parliamo di poeti, prima di leggere le coincidenze significative di cui in tutto stiamo parlando, credo che questa possa riassumere un po', come dire, il ruolo del poeta. Scusi, secondo me si sente meglio senza? Senza, io sono d'accordosissimo. Allora, uno sguardo d'abisso. Ho sentito parole mute, taglienti più di una lama, pesanti più di una pietra. Nel profondo dell'anima non ho scorto che la sviadita ombra delle parole. Come poeti sono affamati di notte e luna, e quando il tempo sembra fermarsi, quando l'agire umano dorme, il poeta vigile canta la vita. Ecco, credo che così si è fatto proprio. E' stato bellissimo anche parlare con Susi, perché ci siamo ritrovati in tante... Abbiamo scelto l'estate, noi siamo ritrovati in tanti rimandi e in tanti pensieri. Però, visto che abbiamo parlato di coincidenze significative, leggiamo prima questa e poi, insomma, anche le altre che ci sono piaciute, visto che non le possiamo leggere tutte, giusto? Non si fa se non lo riesce. Adesso, staremo qui in lingua. Le coincidenze significative. Sei quel che sei e devi esserlo. E' questo che mi piace di te. Quel che sei. Come ci si può stancare di te? Io no. Forse stasera ti posso chiamare. Voglio capire se hai cura di te. Mandami un bacio. Mi piace baciarti, lo sai. Sono felice che ti prendi cura di te, perché ti voglio bene. Fa fedelissimo. Quest'anno il freddo mi è entrato fin dentro l'anima. Il problema è che ho la porta che non si chiude. Baciami, perché starei peggio se sapessi che non lo fai. Dovrei imparare da te ad amarmi. Trascorrere la sera con te ad amare la teoria sulle coincidenze significative. Intanto il respiro e il cuore continuano a fare quel battito in più che sento, fino alla gola. Le note messe insieme. Emozionante esperienza. Commovente, nonostante tutto. Se non fosse reale, non farebbe così male. Devo darti la buonanotte. Ma resto con te, stanotte. Bella. Hai fatto emozionare il poeta. Non so. Sì. Tra l'altro... Ovviamente parliamo di coincidenze, ma qua dentro c'è tanto amore. C'è tantissimo amore. Quindi è che poi che le coincidenze si trasformano, vengono un pochettino a scavarci e a scavare. Ogni volta noi leggiamo anche chi la scrive, non soltanto chi la legge. Sì, leggiamo. A parte quello, tra l'altro, proprio per la poesia in particolare, è difficile. Sarebbe meglio uscire dalle categorie bella, brutta, perché la poesia è qualcosa di molto soggettivo. A me può dare un'emozione, a lei ne può dare un'altra, a lei un'altra ancora, e potremmo andare all'infinito. Ognuno di noi ci vede qualcosa dentro che ha a che fare con la sua propria sensibilità, con il suo proprio vissuto. E per esempio adesso mi ha colpito, ho focalizzato l'attenzione sulla parola cura. No? E guarda, coincidenza, i cittadini facciano. Io ho fatto quella... Proprio mi sono impegnata a fare notare questa parola perché mi sono sentita un po' osservata dal mio caro Franco. Un po' pensieroso. Esatto, così. La cura. La cura e l'attenzione, aggiungerei. Ok, ecco, avere cura intanto di se stessi è qualcosa di fondamentale importanza. Quando noi soffriamo, quando siamo presi attanagliati da un grande dolore, tendiamo a lasciarci andare a quel dolore e a non amarci più, a non avere più cura di noi. E invece non ci rendiamo conto un po' l'importanza che ha amarsi, avere cura di se stessi. Per cui avere cura e attenzione verso gli altri. Perché l'attenzione è qualcosa di veramente fondamentale, che spesso appunto per distrazione non teniamo in considerazione. Io, anche in questo caso, c'è molto di me anche come insegnante in questi scritti. Quando dialogo con i miei alunni, dico sempre loro, faccio questo esempio, dovete cercare di impegnarvi nell'amarvi, nell'avere cura di voi, perché se prima non state bene voi, non potete far stare bene gli altri che stanno attorno a voi. E porto sempre l'esempio, un esempio molto banale, ma davvero di una banalità estrema, però secondo me è efficace quando siamo seduti sull'aereo e l'aereo sta per decollare e l'assistente di volo ci spiega cosa dobbiamo fare per prendere il salvagente sull'aereo e poi dice, nel caso in cui dovesse uscire la maschera d'ossigeno, indossatela prima voi e aiutate poi chi mi sta accanto. Perché? Perché se io non sto bene, non posso fare stare bene chi mi sta accanto. E quindi questa cosa della cura è di estrema importanza. Poco fa, mentre leggevo Lo sguardo d'abisso, mi sono venute in mente le cose che ci siamo dette con Susi a proposito dei temi, delle sensazioni, delle immagini che poi si ritrovano ovviamente un po' leggendo nelle altre poesie. è proprio nel primo momento.